Gentili telespettatori, buona giornata. Green Pass è stato di emergenza. Che cosa succederà nelle prossime settimane? Molto probabilmente lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31 di marzo. Dopo 26 mesi, finalmente l'Italia esce dall'emergenza. Però esce dall'emergenza, ma rimane uno strumento politico come il Green Pass che limita la libertà personale. Per logica, se lo stato di emergenza viene tolto, non c'è più bisogno di limitare la libertà personale di una parte della popolazione italiana. Però, sai, sono mie idee cosa volete che sia contro le imminenze governative. Il sottosegretario alla salute di questo governo, Andrea Costa, interviene nella trasmissione televisiva su Rai 3, a Gorà, e spiega che probabilmente dati alla mano lo stato di emergenza non verrà rinnovato oltre la scadenza del 31 marzo del 2022. Da un lato i dati ogni giorno ci dicono che c'è un calo dei contagi, dei ricoveri, dice, di tutti gli indicatori. Dall'altro le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato di emergenza non verrà rinnovato. Al momento, dice, sono 48 milioni di italiani che hanno ricevuto il vaccino anti-covid, 35 milioni quelli con la terza dose. A fronte di questi numeri restano quindi circa 12 milioni di cittadini che devono ancora ricevere la terza dose. Ed è questo qui proprio il punto. Se ci fossero in questo momento tutte le terze dosi fatte, il governo probabilmente toglierebbe il Green Pass perché non avrebbe più nessun senso. Chi si è vaccinato si è vaccinato, quelli che non si sono vaccinati non ci puoi fare niente. Sono anche partite le multe, ma quelli che hanno deciso di non vaccinarsi pagheranno i 100 euro di multe o non la pagheranno e si andrà avanti così. Il governo non vuole togliere il Green Pass proprio perché vuole far vaccinare ancora 12 milioni con la terza dose. Il governo dice, ma se io lo tolgo adesso, qui non si vaccina più nessuno. La terza dose non la fa più nessuno. Allora teniamo questo Green Pass fino a quando altri 12 milioni hanno ricevuto la terza dose. Però a 200-300 mila al giorno, prima di fare 12 milioni, ci vogliono un po' di mesi. Ecco, svelato il perché. Non vogliono togliere il Green Pass. Sempre Costa, sottosegretario alla salute, ha poi calcolato che se verrà mantenuto il ritmo attuale di vaccinazioni, entro un mese verrà completata per tutti. E da marzo si potrà prevedere un rallentamento del certificato verde, per esempio nei luoghi all'aperto. Allora, lui dice, entro un mese verrà completata per tutti. Beh, 300 mila al giorno per 30 giorni sono 9 milioni. Diciamo che se dovesse continuare con questo ritmo, un mese e mezzo. Ma se le somministrazioni dovessero scendere a 150 mila ci vorrebbero tre mesi. E come si fa a mantenere sto Green Pass, sto documento, per altri tre mesi? Intanto domani 11 febbraio, oggi, cadrà l'obbligo di indossare la maschina all'aperto in tutta Italia. Costa ha tenuto a precisare che il Green Pass sarà attenuato, sempre però in modo graduale. Attenuato. Che vuol dire attenuato? Così come precedentemente il governo ha introdotto una serie di misure restrittive. Nella stessa maniera queste verranno via via allentate. Quindi un poco alla volta le hanno messe e un poco alla volta le tolgono. Non le vogliono togliere di colpo come hanno fatto negli altri paesi europei. Ma togliere di colpo questo Green Pass, benedetti politici, vorrebbe dire sperare di far ripartire l'economia, il turismo, far capire nel mondo che in Italia non c'è più l'emergenza, non ci sono più documenti da mostrare. Perché molti che vogliono venire in Italia come turisti lasciano peri. Pensatevi voi un turista dall'altra parte del mondo che va in un'agenzia di quel paese e gli dicono volevo andare in Italia. Ma lì c'è il certificato, il tampone, la quarantena, cinque giorni. Ma non lo so, ma come faccio? Chi lo sa. Guardi, prenotiamo da un'altra parte. Dov'è che si può andare che non mi rompono le scatole? Guardate che funziona così, non vi sto raccontando una storiella. Funziona così. Chi deve prenotare una vacanza non vuole trovarsi problemi. Vado lì, non mi accettano, non mi fanno andare in albergo, non posso entrare in un bar perché mi dicono cos'è sta roba, non la riconosco. Ecco, intanto mantenere questo Green Pass provoca un danno all'economia. quante persone ci sono che non hanno questo Green Pass? 5 milioni e mezzo? Il 10% degli italiani non hanno il Green Pass, quello per entrare nei negozi? Vuol dire che i negozi, il commercio, ha una riduzione del fatturato come minimo del 10%. Se la platea da 100 persone si riduce a 90% perché 10% non hanno la possibilità di entrare, significa che il commercio italiano, il negozio, il cinema, avrà come minimo una riduzione del 10% che sono proprio i non vaccinati che non possono entrare nei luoghi come ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine eccetera eccetera. Quindi questo è un freno per il turismo ed è un freno anche per il turismo italiano. Un non vaccinato milionario che voleva andare a farsi un mese da qualche parte in Italia non può perché non ha il Green Pass rafforzato. Quindi comunque sia il Green Pass frena l'economia. Fa anche rima, no? Comunque sia il Green Pass frena l'economia. Ecco, vuoi mettere dei cartelli? Comunque sia il Green Pass frena l'economia, no? Vabbè, a parte le scemenze che ogni tanto dico, la normalità. Il governo vuole tornare alla normalità ma un po' alla volta. Dice tranquilli, un po' alla volta. Ecco, anche all'interno degli stadi vi è stato un incremento della capacità al 75%. Potrà arrivare al 100% governo permettendo. La speranza è che il campionato di calcio termini con gli stadi pieni. Anche lì sono mancati introiti. L'economia ha comunque rallentato. Ha comunque rallentato. Se si vuole riprendere un po' con il PIL la produzione di ricchezza bisogna togliere questa restrizione perché ormai è giunto il momento di toglierla. È giunto il momento. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti a presto.